A.M. di Michele Aversa per la fornitura di articoli antinfortunistici e di dispositivi di protezione individuali. A.M. di Michele Aversa Nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato la solennità di Cristo Re, che di fatto chiude l'anno liturgico, si è conclusa anche l'esperienza di Fra Luigi Petrone al convento di San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni. Ieri sera, infatti, in una chiesa gremita di fedeli e semplici curiosi, il vulcanico francescano ha celebrato la sua ultima messa all'interno di quel tempio per il quale tanto si è prodigato per ricostruirlo mattone dopo mattone dopo la distruzione causata dal sisma del 1980. Ringrazio davvero tutti per gli oltre vent'anni trascorsi in questa comunità, ha commentato Fraggegino nell'Omelia. Resta tanta gioia per quanto siamo riusciti a fare in questo quarto di secolo. Anche se non sarò più presente fisicamente, il mio spirito è vivo ed è sempre qui. Anzi, vi esorto a starmi vicino con la preghiera per l'inizio di questa nuova esperienza a Nocere Inferiore. Nei prossimi giorni, infatti, Fra Luigi Petrone si trasferirà definitivamente nel comune capofila dell'Agro, presso il convento di San Francesco al campo, così come deciso dai vertici provinciali dei frati minori. Al termine della messa, a nome di tutti i seguaci di Fra Giggino, a prendere la parola è stato il dottor Luigi Cremone, suo stretto collaboratore. Il trasferimento di Fra Luigi Petrone a Nocere Inferiore, tuttavia, segna la fine di un'epoca per la città metelliana. Il frati, infatti, era diventato una controversa figura al centro dei dibattiti cittadini. Sotto i portici, se da un lato c'è chi esalta le sue opere innegabili, dall'altro c'è chi ha sempre criticato il suo modo di agire ed anche il suo modo di intendere la vita francescana. Intanto, seppur con sfumature diverse, la vita spirituale e civile al convento di San Francesco e Sant'Antonio continua.